E' Roberto Farnesi è qui! Ciao Roberto, come stai? Ciao, come stai? Come stai? Siamo visti intravisti a Venezia. Eh sì, al festival. Senti, super felice mi dicono in questo periodo, eh? Sì. Sta andando tutto alla grande. Beh, non lo diciamo a bassa vuole. Senti, ma l'amore, dai, l'amore va a confere. Ma sorridevo perché vedevo delle scene di ballando qua, guarda qua. Ti fa sorridere guardandoti a ballare. No, e mi fa ridere sì perché, insomma, io ho tutto fuoco in ballerina. Vabbè, dai. Però mi sono divertito molto, è stata una bella esperienza. Senti, un appuntamento importante. Oggi, 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 15.40, la seconda stagione del Daily, del Paradiso delle Signore, di cui sono molto orgoglioso, molto fiero, un ottimo risultato la scorsa stagione. Speriamo di bissare. Alla grande. Ecco, adesso mandiamo, manderemo anche la clip. Allora, grande successo. Tu interpreti che ruolo, Roberto? È il comandatore Umberto Guarnieri, uomo cinico, insomma, un banchiere spietato, spietato uomo d'affari. Però, insomma, dai, quest'anno vedremo di essere un pochino più buoni, forse. Ma mi sa di no, eh? Peggio. E allora, vediamolo. Questo uomo cinico d'affari. Comandatore, non avevo ancora ricevuto notizie riguardo al suo arrivo. Non ne ho date, volevo invitare i comitati di benvenuto. E i suoi bagagli? Li ha lasciati il tassista all'ingresso. Provvedo immediatamente. Grazie, Italo. Bentornato, comandatore. Papà! Bambina mia! Come sono felice di ridetti. Mi sei mancata. Mi sei mancato anche tu. Ma non pensavo di trovarti qui. Qualche tradizione prima del matrimonio ha voluto rispettarla. Non posso dire che la cosa mi dispiace. Sei... Sei raggiante. Sono felice. Sei per un attimo avuto paura che non saresti venuto. Non sarei mancato per niente al mondo. Dai, questo è il nuovo inizio. No, gli occhiali sono da vista. Ho visto che mi guardavi di vista. Che far fare con gli occhiali da... No, no, sono da... Senti, ma quando ti sposi? Mi sposi? No, no, no. Quello c'è, mi sa, la quarta stagione. Dici lì? Guarda che belli che sei. A Venezia. Proprio quei giorni lì. Belli belli. Che bella, io... Insomma, sembra più una foto di Babbo Natale a Venezia questa qua. Però, la storia di un grande amore, speriamo davvero, perché poi tutti i giornali, siti, gossipi, stanno lanciando il vostro matrimonio. Insomma, speriamo che arrivi presto. Allora, io, come pensare al matrimonio, sono un po' allergico, quindi mantengo quella linea. No, l'ambizione si spera prima o poi di riuscire ad avere un figlio, che sarebbe un desiderio grandissimo. Te lo auguriamo. Vediamo, vediamo. L'appuntamento, intanto, è oggi alle... 15.40, Rai 1. Rai 1 con il... Paradiso delle Signore, seconda stagione, mi raccomando. E Roberto Farnesi, grazie. Ci vediamo domani con storie italiane. Grazie.